Gli effetti della vittoria del no al referendum hanno travolto anche la giunta a Pigliarù di missionari, gli assessori agli affari generali e all'agricoltura. La polizia locale di Sassari mette in sigilia la vecchia discarica di Calancoi, denunciati proprietari dell'area dove si sono sprigionati fumi tossici. Oltre 140 eventi per tutto il mese di dicembre, tra mostre, spettacoli e intrattenimento, Raffael Gualazzi per il concerto di fine anno che si terrà in Piazza d'Italia. TG di Canale 12, il mio più cordiale buonasera. Partiamo dalla politica, l'avete visto dagli strili del nostro sommario. Il risultato referendario di domenica scorsa non ha lasciato indenne neanche la politica regionale. La giunta a Pigliarù inizia a vacillare sotto l'onda dei no che ha travolto anche l'isola con il record nazionale. Ieri pomeriggio le dimissioni dell'assessore alle riforme dei muro di cui vi abbiamo dato conto e nella mattinata di oggi ufficializzate con una lettera quelle dell'assessore all'agricoltura Elisabetta Falchi che, invitata dal suo partito ai Rossomori, lascia l'incarico e la maggioranza insieme ai due consiglieri in quota al partito. Sentiamo. L'effetto no al referendum ha travolto come un'onda anche la politica locale. Le dimissioni annunciate da Renzi a scrutinio ancora aperto, il risultato clamoroso dei no in Sardegna, con il record nazionale del 72,22%, non poteva che coinvolgere anche la compagine di governo regionale. E ieri pomeriggio le prime dimissioni, quelle dell'assessore alle riforme e agli affari generali Gian Mario De Muro, del PD in quota assoriana. Effetto del suo impegno a favore del sia il referendum costituzionale di domenica scorsa. E se De Muro spiega le ragioni delle sue dimissioni come decisione personale per effetto della delusione sul risultato del referendum, l'opposizione va all'attacco. Il presidente della regione non pensi di nascondersi dietro il gesto del suo collega e di fuggire da una questione politica che lo vede in miranza, sia nella sua coalizione, che è fatto ben più rilevante fuori dal palazzo, ha sottolineato Capellaci. Mentre Pitalis chiede che Pigliaro riferisca in aula sulle dimissioni dell'assessore e parla di crisi politica in atto. Ma gli scranni della maggioranza sembrano non resistere allo scossone del referendum e questa mattina i rossomori fanno sapere in una conferenza stampa che l'assessore regionale agricoltura Elisabetta Falchi ha presentato le sue irrevocabili dimissioni. Ma se le dimissioni di De Muro sono state quasi indolore, accompagnate da una stretta di mano, non si può dire altrettanto di quelle dei rossomori, che lasciano la maggioranza di centrosinistra sbattendo la porta, con un malcontento profondo per due anni e mezzo di legislatura. Amarezza per l'ineguatezza della coalizione che ha fallito ed è mutata geneticamente, fanno sapere. E' per una giunta che si rinchiude a Riccio e cerca rapporti bilaterali con i singoli consiglieri. Il partito prende posizione non solo con le dimissioni dell'assessore Falchi, ma anche passando all'opposizione con i due consiglieri, Emilio Usula e Paolo Zedda. Pigliarù però ha commentato solo le dimissioni dell'uscente titolare alle riforme, confermando la versione dello stesso De Muro. Mi aveva espresso alcuni mesi fa l'intenzione di tornare al suo lavoro in università e in quella occasione abbiamo concordato che mantenesse il suo posto in giunta sino all'accordo sul rinnovo contratuale dei regionali al piano di reclutamento e al referendum costituzionale. Così è stato. Intanto il centrosinistra ha convocato per lunedì 12 un vertice di maggioranza in consiglio regionale per affrontare la crisi politica. E l'assessore Falchi spiega nella lettera di dimissioni. Ho deciso di farlo per correttezza e coerenza, scrive. Molto è stato fatto e molto di più avremmo potuto fare per un'agricoltura più competitiva. Ma l'ex assessore non nasconde stanchezza e un certo isolamento in alcuni frangenti difficili, così come per lealtà. Non ho mai nascosto la mia contrarietà ad alcune scelte operate dalla giunta. Su tutte l'indicazione del governatore comunicata ma non condivisa con gli alleati del super manager alla sanità. E lasciamo la politica per andare a Sassari. La polizia municipale ha posto sotto sequestro la vecchia discarica di Calancoi sulla strada Sassari-Osilo. Nell'area si sono sviluppati dei fumi tossici dalla combustione di materiale interrato. I proprietari sono stati denunciati per l'utilizzo della discarica chiusa nel 2003. Ci racconta tutto Marco Sanna. La polizia locale di Sassari ha posto sotto sequestro preventivo una discarica abusiva nell'area di Calancoi sulla strada Perosilo dalla quale si erano sprigionate delle fumarole sfiati di pericolose combustioni sotterranee. Erano stati residenti delle aree vicine a lamentare odore di fumo e area irrespirabile e dopo un sopralluogo la polizia locale ha individuato tre colonne di fumo sul fondo di una scarpata, residui di un incendio di diversi giorni fa che ha continuato a bruciare depositi sotterranei di materiale da discarica. L'area, di diversi ettari, è stata la prima discarica comunale di Sassari ed è quindi satura di rifiuti anche combustibili, ma dal 2003, cioè dalla scadenza della concessione, non poteva essere più utilizzata. Invece, secondo quanto rilevato dalla polizia locale e dal suo comandante Gianni Serra, vi sono indizi che materiali inerti possano essere stati depositati a più riprese anche recentemente. I proprietari dei terreni, i fratelli Renna, gestiscono una discarica autorizzata non lontana da quella sequestrata e c'è il sospetto che parte dei materiali trattati possano essere stati smaltiti nel vecchio deposito di Calancoi. I proprietari sono dunque stati denunciati penalmente per inquinamento ambientale, non escludendo che gli stessi incendi sotterranei possano essere stati generati per autocombustione proprio per l'uso abusivo della discarica e per la mancata bonifica dell'area, dove doveva favorirsi la ripresa della vegetazione spontanea e dove erano vietati i movimenti di terra. Con l'intervento di mezzi del settore ambiente della provincia, le uscite di fumo sono state coperte di terre e soffocate. Ed ora a Baunei, perché il Comune interviene per disciplinare l'allevamento suino del Supramonte. Sono stati assegnati 40 lotti di terreno damariale ad allevatori che in accordo con le agenzie regionali condurranno allevamenti modello integrati nell'ambiente e al sicuro dalla peste suina. Sentiamo. Il Comune di Baunei vuole disciplinare l'allevamento suino sul Supramonte e lo fa accogliendo 40 richieste di assegnazione dei terreni damaniali per i quali il Consiglio ha approvato la sospensione dell'uso civico. In collaborazione con Argea, Regione e ASL nasceranno in quei lotti allevamenti modello, con ricoveri in pietre e legno integrati nel paesaggio e adatti all'offerta turistica, ma soprattutto in regola con le prescrizioni sulla peste suina africana. Il modello è quello dell'estremadura spagnola, dove piccoli allevamenti montani e produzione di prosciutti e insaccati fanno pienamente parte dell'offerta turistica. Il nostro è un territorio che per quasi 22.000 ettari è tutto sotto demanio civico e come tale oggi, nel 2016, alla luce anche del nostro piano degli usi civici, necessita di una rivisitazione aggiornata ai tempi e alle necessità. Io credo che il turista che oggi viene per il Supramonte e per il mare, se c'è un prosciutto buono, viene due volte di più. Il modello che propone Baunei potrebbe essere adottato da altri comuni montani della Barbagia e dell'Ogliastra. Il primo risultato sarebbe quello di limitare allevamenti abusivi e pascolo brado, che sono condizioni di diffusione della peste suina. E ora parliamo di festività natalizie. Sassari, un Natale di incontri, il cartellone di appuntamenti che il Comune propone per il mese di dicembre sino all'Epifania. Quasi 140 eventi, tra cui il concerto dell'ultimo dell'anno con Raffaele Gualazzi. Luca Foddai. Arte, musica, teatro, spettacolo, una gastronomia e cultura in generale. È Sassari un Natale di incontri, il cartellone di appuntamenti che il Comune propone per il mese di dicembre sino a dopo l'Epifania. Un programma che mira alla valorizzazione e alla promozione di quasi 140 eventi. L'amministrazione per l'intero mese di appuntamenti, capodanno compreso, ha investito circa 150.000 euro. Ha ricordato il sindaco Nicola Sanna che insieme all'assessore alla cultura Raffaella Sau questa mattina ha presentato il calendario degli eventi. Sono intervenuti anche Graziano Milia per la fondazione di Sardegna e i promotori delle iniziative. Tanti dunque gli appuntamenti al centro e nelle vie storiche del commercio cittadino, dall'emicicolo a Piazza d'Italia, dai teatri con spettacoli e rappresentazioni anche per famiglie e bambini, alle chiese, piazze e biblioteche con i concerti di Natale. Inoltre una valorizzazione del vecchio mercato civico e del quartiere di Monte Rosello. E poi Piazza Tola e Via Cavour. Per quest'ultimo è stato programmato un piano di chiusura al traffico e limitazioni nella sosta. Numerose le mostre che consentiranno anche di visitare palazzi di pregio, dall'archivio storico comunale con gli statuti sassaresi, alla flumentaria con la mostra di collezionismo di Trenini e Carion e il percorso scultorio oceanografico natalizio allestito al centro cittadino dall'Accademia delle Belle Arti. Una citazione a parte merita la collettiva Aperto, con 32 artisti, all'ex convento del Carmelo, che il 16 dicembre alle 18 aprirà la serie di mostre nell'edificio destinato a ospitare il fondo permanente Biasi. Tra gli eventi del cartellone, il concerto dell'ultimo dell'anno in Piazza d'Italia, con Raffaele Gualazzi, Beppe Dettori e DJ Pille. Infine, una novità che riguarda la grafica della brochure degli eventi del Natale. Riporta in prima e in ultima di copertina un'opera realizzata dall'artista sarda Edina Altara e che evoca una simbologia di valori laici e religiosi insieme, che fondano l'ideale di una società plurale e rispettosa dei diritti. Restiamo in atmosfere natalizie. Trenini e Carioni in una mostra alla frumentaria che si inaugurerà il prossimo 9 dicembre, in anteprima alle immagini dei modellini che affascinano grandi e piccini. Il servizio di Sandra Sanna. La magia del Natale racchiusa nello spazio di un Carion basterebbe per far felici grandi e piccini. Ma se questa esperienza si moltiplica e i Carion diventano 10, 20, 30, oltre 40, con paesaggi e personaggi differenti, allora il sogno diventa gioco, fino a trasformarsi in una realtà fantastica che ha dato il via a una mostra di modellismo che ha come tema il treno. La corrispondenza tra sogno e modello è la filosofia di ogni modellista che vede realizzato con le proprie mani il risultato di uno studio, nato da una passione. E questa è la sintesi della mostra, organizzata a Sassari al Palazzo della Frumentaria dall'Associazione Arte e Cultura Società La Dotte, che sarà inaugurata il prossimo 9 dicembre alle 18 e che resterà aperta fino al 15 gennaio, dal martedì alla domenica. La mostra di modellismo si avvale della collezione privata del professor Enrico Della Cà, con il patrocinio del Comune di Sassari. Ma a costruire questi gioielli, ammirati in anteprima anche dall'ingegner Giuseppe Fiori, progettista di Sirio, insieme agli organizzatori Carlo Entero e Vanna Sanna, è un personaggio singolare, Salvatore Fiori, ex operaio di una fabbrica di carri armati, la Leopard della Spezia, oggi in pensione, che realizza modellini fedeli a quelli originali, in diverse scale, e cui costi vanno dai 20.000, come la locomotiva verde in scala 1 a 20, a vapore vivo, fino ai 4.000 della locomotiva nera e ai 2.000 delle automotrici bianche, con tanto di passeggeri. Ma sentiamo come nasce e si coltiva una passione. Un episodio di quando avevo tre anni e mezzo. Mio padre, allora noi viviamo a Genova, e mio padre aveva un amico che era macchinista delle ferrovie. Oh, guardi, non ce l'ho fatta la tentazione, ho cominciato a prendere il carbone con le mie mani e lo buttavo dentro al forno, soltanto che poi mi sono visto le mani che erano nere. E cosa ho fatto? Di istinto mi è venuto così di pulirmi nel vestito. In inaugurazione del 9 dicembre saranno presenti le autorità locali, ma soprattutto un vero capotreno con tanto di fischietto che annullerà i biglietti di tutti i passeggeri di questo splendido viaggio nella storia delle ferrovie sarde. E ieri, nel giorno dedicato al patrono di Sassari, è stata estratta la dote di San Nicola, assegnata a tre giovani spose di altrettante parrocchie cittadine, ma saranno in tutto sette a beneficiare della dote. Sentiamo. Nel giorno dedicato al patrono di Sassari è stata assegnata la dote di San Nicola. Ieri sera, al termine della solenne funzione religiosa in cattedrale, sono state estratte le tre parrocchie cittadine a cui appartengono le giovani spose che avranno in dono la dote. Sono anche quest'anno latte dolce San Nicola, a cui si aggiunge San Giovanni Bosco. Sette in tutto le parrocchie che hanno aderito all'iniziativa. L'estrazione è stata coordinata dal canonico parroco del Duomo, Monsignor Dino Pitalis. A ciascuna delle tre ragazze andranno 4.500 euro, mentre le altre quattro giovani non estratte avranno 1.260 euro a testa, più capi di corredo. Il fondo complessivo era quest'anno di 18.550 euro. La funzione religiosa è stata guidata dall'arcivescovo padre Paolo Azei, che nell'omelia ha richiamato l'importanza dell'integrazione delle etnie e delle presenze straniere nel centro storico. San Nicola non è solo il patrono di Sassari e di altre città come Bari, Ancona e Amsterdam, è infatti anche uno dei simboli delle festività natalizie. Fu lo scrittore Clement Moore nel 1821 a descriverlo come un anziano signore barbutto, allegro e cicciottello, vestito di rosso con bordature bianche. Ovvero Babbo Natale, che infatti nei paesi di lingua germanica è chiamato Santa Claus. Ma il vero San Nicola in realtà col Natale non c'entra niente. Vescovo di Milan nella Liccia, regione nell'attuale Turchia, visse tra il 250 e il 343. Le sue spoglie arrivarono a Bari nel 1087. Si racconta che Nicola venne a conoscenza della decisione di un padre, che non avendo i soldi per costituire la dotte alle sue tre figlie, aveva deciso di mandarle a prostituirsi. Il vescovo allora fornì tre sacchetti di monete d'oro, che costituirono così la dotte delle fanciulle, salvandone la purezza. E nello spazio Sarsa, la collettiva d'arte dei giovani artisti emergenti del territorio, esposta alle opere di Claudia Pazzona, Ciriaco Cano e Alessandro Usai, tutti studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Sassa. Risentiamo. L'Isola dei Teatri, giunta alla sua ventunesima edizione, ha preso il via il 24 novembre scorso e si chiuderà il prossimo 21 dicembre. Il cartellone di quest'anno come tema di confronto le istanze artistico del panorama del teatro contemporaneo di diversi paesi, quali Albania, Bulgaria, Romania e italiani di diverse regioni, come l'Emilia Romagna e la Sardegna. L'Isola dei Teatri si apre anche al territorio del nord Sardegna, offrendo opportunità di condivisione di esperienze culturali con le preziose realtà produttive locali. Fulcro del festival, lo spazio Sarsa di Sassari, ma sono previste tappe anche nei comuni di Cosoine, Ploaghe, Sorso e Torralba. In città, sempre nello spazio Sarsa, la collettiva d'arte dei giovani artisti emergenti del territorio. Esposte le opere di Claudia Pazzona, Ciriaco Canu, Alessandro Usai, tutti studenti dell'Accademia delle Belle Arti di Sassari. Oli su tela, stampe e fotografie, per la maggior parte con un unico filo conduttore, il mare e gli sport acquatici. Si ritornerà nello spazio Sarsa l'11 dicembre alle 21 con cortocircuito del crogiolo di Cagliari per la regia di Virginia Martini. Il 18 dicembre sarà la volta di C'est la vie grotesque del Theater Dream Bulgaro alle ore 19. Lo spazio Sarsa è in via Guido Sieni e dagli anni 70 è stato prescelto come luogo di sperimentazione teatrale. Non a caso si è voluto creare uno spazio in un ghetto abbandonato, così come lo erano le iniziative socioculturali. E torniamo in studio per la pagina sportiva. Partiamo dal calcio. Il latte dolce nella prensione per il ricorso presentato dal Foligno prepara la gara che domani la vedrà impegnata al Vanisanna contro il Monterosi, squadra che occupa la quinta posizione in classifica. Fischio d'inizio alle 14.30. I Coribichesu. Il latte dolce prepara la gara che domani al Vanisanna la vedrà opposta al Monterosi con un problema che speriamo venga risolto il più presto. In riferimento alla gara giocata domenica a Foligno, per un errore di trascrizione sulla distinzione dei giocatori, De Palmas, che ha sostituito Scognamillo, aveva la maniera numero 13 all'atto della sostituzione. Che riguardava il fuoricuota, per uno scambio di maglia risultava entrato in campo Chessa, che fuoricuota non è. Pertanto il Foligno ha presentato reclamo, ma la realtà è che nessuna froda è stata compiuta al latte dolce, che ha avviato le procedure per far luce su un disguido che potrebbe inficiare il risultato ottenuto sul campo, sovvertendo lo stesso a favore della squadra di casa, che vedrebbe assegnata lì la vittoria a tavolino. Nota positiva, la convocazione rappresentativa nazionale di Serie D dell'attaccante Scognamillo. Per domani, calcio inizio alle 14.30, Mr. Pab ha ottrato a riutilizzare Capitan Cocco e Mereu, che hanno scontato il turno in squalifica. La formazione del Monterosi è squadra quadrata ed occupa la quinta posizione in classifica, e dovrà essere affrontata con accortezza tattica. Tutti ci aspettiamo una gara vibrante, perché l'imperativo è fare il risultato. Ed ora la vela si è svolta domenica scorsa nella suggestiva baglia di Castelsardo. La prima edizione di Vele in Golfo. Il servizio di Carlo Sandroni. Sotto la splendida cornice della Rocca di Castelsardo, complice una bellissima giornata, si è svolta la prima prova dell'edizione 2016-2017 di Vele nel Golfo, campionato invernale di vela, ospitato dalla sezione di Castelsardo della Lega Nazionale Italiana e sponsorizzato da Beverage Sardegna di Gianni Spano. I 29 equipaggi iscritti provenivano dai vari circoli e sezioni della Lega Navale, del Golfo della Sinara, da Alghero e novità di questa edizione da Santa Teresa di Gallura, dalla Corsica, con le Cercle de Voal de Bonifacio, presente con due imbarcazioni, Bianca e Eraora. La classifica ha premiato le imbarcazioni minori di 33 piedi con Cheonda, Paprica, Ilia e Bianca Inversol. Eraora è a terzo posto. Maggiori di 33 piedi con Eleonora Duse, Alice, Asza. L'appuntamento con gli equipaggi per il 22 gennaio del 2017 a Stintino per la seconda prova. Grazie a tutti. Inizio il rullo della notizia alle 14.30 alle 19.45. Mentre per il telegiornale torniamo venerdì, vi aspetto come sempre alle 19.45, sempre qui dai nostri studi. Ovviamente una buona festa dell'Immacolata e un buon proseguimento di serata a tutti voi. Grazie, arrivederci.